Musica Allora Vittorio Cecchigori, grande, grandissimo rappresentante del cinema in tutto il mondo Quanto è importante la bellezza per il cinema? Beh, la bellezza è importantissima Però ci vuole anche, bisogna anche, per fare il cinema bisogna anche sapere recitare Però, insomma, diciamo che tu di bellezza, di recitazione, di capacità, di interpretazione te ne intendi C'è un'attrice in particolare che ricordi con affetto e che magari, non perché era proprio bella ma perché aveva una personalità, ti è rimasta nel cuore? No, io ho avuto un'amicizia, lo dicevo prima, è stata una mia fidanzata, ma avevo vent'anni che partecipò a Miss Universe a Los Angeles, la finale a Los Angeles Era bellissima, si chiama Maria Grazia Buccella Era bellissima, è bellissima E faceva il cinema Poi mi disse che, mi ha detto, perché l'ho risentita da poco E mi ha detto che lei, quando andò a Los Angeles, stava benissimo E fece vari contratti, offerte di cinema e cose Però, poi dopo, siccome non aveva ventun'anni, però dopo fu rispedita in Italia perché non aveva ancora ventun'anni Comunque ha poi lavorato tanto nel cinema, ha fatto tanti film Cosa consigli tu ad un'attrice prima di fare il primo ciac? Ecco, ma questo sai, per saper recitare bisogna, bisogna essere sicuri di saper recitare Solo con la bellezza ci sono forti limiti, forti limiti, poi diventa anche da regista certo Però ci sono forti limiti, quindi bisogna essere sicuri, capire quello che devi fare Impersonare la parte, ascoltare il regista E poi decide il pubblico E poi decide il pubblico perché la vita è bella, ma è anche sempre più bella Sì, è sempre più bella, certo Sì, è sempre più bella